buongiorno sono alberto canali amministratore unico di 3dp srl siamo presenti con felicità al mezzo di bari prima edizione è stata una fiera ottima abbiamo avuto degli ottimi riscontri e siamo assolutamente pronti con bcn 3d con le nuove macchine e con la nostra società 3dp srl per il maxpe di parma grande attesa per il mese di marzo le nostre stampanti qui in fiera abbiamo presentato un modello nuovo la nuova epsilon di bcn 3d e che ovviamente sarà presente anche alla prossima edizione